Qui dentro noi facciamo la ideazione, l'invenzione, la progettazione e l'allestimento delle macchine, dei miei prodotti insomma. Credo che una delle sfide anche importanti nel corso di questi anni è che sostanzialmente i tuoi pezzi, quelli che in qualche modo hai disegnato, sono penso tra i più copiati in assoluto nel mondo del fuoristrada. Da una parte mi sentivo lusingato, dall'altra ecco ai tempi la vivevo male perché...